Catanzaro, squadra oggettivamente in crisi, può essere l'avversario tra virgolette ideale per il Taranto, anche se ha un organico di tutto rispetto? Hai detto tutto tu, potrei non rispondere. No, no, però... Però effettivamente sarebbe un errore clamoroso pensare così, pensare che l'avversario ideale è al contrario. È una squadra che è partita con altri obiettivi di classifica e che si è ritrovata a perdere dopo la vittoria con l'Andre tre volte consecutivamente. Ha avuto qualche problema tecnico perché c'è stato già il cambio dell'allenatore, è arrivato un allenatore con un curriculum importantissimo, giocatori di ottimo curriculum. La nostra intelligenza ci suggerisce di essere attenti. Anche qualche problema ambientale. Sì, nelle piazze importanti c'è sempre un problema ambientale quando non ci sono i risultati. Per cui sì, c'è una serie di situazioni ma noi non possiamo stare a pensare a queste situazioni di contorno. Mister, stamattina abbiamo assistito alla presentazione di un giocatore importante, Pierrone. Lo ha già visto oggi in allenamento e dal punto di vista fisico già lo ritiene spendibile per Catanzaro? Allora, ti dico subito, io non l'ho visto in allenamento perché ha fatto la visita medica che è venuta dopo sette ore e mezzo di viaggio del ragazzo che è arrivato dalla Sicilia. Per cui io credo che al momento si registra questo tasso esperienziale che viene a rafforzare il nostro organico e quindi siamo contenti. Per cui mi sembra troppo presto di parlare del discorso di Giuseppe Pirrone che è stato appena messo nel nostro organico. Ciao Aldo. In questi giorni si parla molto della carenza di gioco, del fatto che il Taranto non abbia un gioco spendibile. È un qualcosa che ti infastidisce? Lo ritieni magari una critica giusta dovuto al fatto che magari il Taranto deve crescere? E poi mi aggancio. Allora il Taranto se gioca male perché hanno quei punti in classifica? Io credo che molto spesso non comprendiamo che cos'è il gioco. Io credo che una squadra è più o meno organizzata nelle varie fasi. Io personalmente qua a Taranto in maniera particolare non ho da dare dimostrazioni dal punto di vista dell'organizzazione perché è stato ampiamente dimostrato. E anche quest'anno la nostra è una squadra organizzata al di là di quelli che sono i nostri limiti. Quando si parla di organizzazione significa che i ragazzi devono sapere che cosa dobbiamo fare in fase di non possesso palla e sapere cosa fare in fase di possesso. Se poi riusciamo ad esprimerci meglio in fase di non possesso per il momento e meno nella fase di possesso, ci sono tutta una serie di giustificazioni. Io ho sempre detto che abbiamo dei giocatori che hanno bisogno di crescere, che c'è tanta gioventù, tanta gente che ha bisogno di mettere esperienza nelle loro prestazioni e quindi non credo che sia giusto infastidirsi, ma è giusto comprendere che, e su questo siamo tutti convinti, che dobbiamo migliorare le nostre prestazioni. Ciao Aldo. Ciao. Nessuno può obiettare, saremmo disonesti intellettualmente, sull'impegno, la buona volontà e la generosità propuse dalla squadra in queste sette giornate di campionato. La nota dolente viene dal centrocampo carente in fase di impostazione. Con l'ingaggio di Giuseppe Pirrone, classe 1986, pensi e speri di aver risolto i problemi poc'anzi menzionati? Intanto ci dà una qualità, un'esperienza che in pochi anni hanno. In quel reparto è escluso Nigro che ha qualità diverse. E tra l'altro, grazie a Dio, ha mostrato di essere un ottimo difensore in questa ultima partita con il Catani. Però credo che, come dicevo prima, molte altre squadre che hanno giocatori di grande qualità non si sono espressi a livello realizzativo. Vediamo il Catania stesso, mi sembra che abbia fatto gli stessi gol che abbiamo realizzato noi. Non è semplice, poi ci sono sempre i tempi di lavoro e naturalmente quando non si segna si dà la croce agli attaccanti e invece è giusto pensare che quando non si prendono gol, e grazie anche al contributo dei centrocampisti e degli attaccanti, quando non si realizza gol probabilmente dovrebbero essere più partecipativi i difensori. E' un discorso piuttosto lungo, così come credo che c'è bisogno di tempi più o meno lunghi affinché i giocatori si conoscono. Adesso oggi è arrivato Pirrone, la prima domanda che si fa, ma che fa, gioca Pirrone, quanto tempo ha bisogno? Io so soltanto che lui non sa nemmeno il nome dei compagni di squadra. Quindi verrà con noi in ritiro e già nel ritiro c'è la prima conoscenza, quella parziale. E poi c'è l'approfondimento. Non voglio continuare a dire che ci sono alcuni giocatori che sono arrivati il primo settembre, però è un dato oggettivo. In un'unica partita, per caso ritiene opportuno poter affrontare la squadra calabrese con un atteggiamento diverso, per esempio, rispetto alle precedenti uscite o attraverso l'organizzazione, il gioco, pensa di poter ottenere i tre punti. Intanto se uno conoscesse approfonditamente il reparto offensivo del Catanzaro, che guarda casa ha fatto bene il gol di noi, non è un fatto che avevo notato, devo dire la verità, perché spendo molto tempo a pensare alla possibilità di migliorare le nostre prestazioni, che è il nostro obiettivo principale. Basta pensare che loro hanno Kunzi, Tavares, Giovinco, Sarao, Campagna, e quindi diversi giocatori di qualità e di curriculum, unitamente a Baccolo, a Carcione, giocatori di grande qualità. Il fatto che abbiano fatto soltanto tre gol e in una gara con l'Andria, ti fa pensare che effettivamente anche loro hanno dei problemi. Però non credo sia corretto da parte nostra pensare di essere squilibrati solo perché il dato numerico degli attaccanti del Catanzaro è così esiguo. Parlando di proprio il Catanzaro che ha fatto i tre gol solo con l'Andria, visto che il Taranto ha la forza e la difesa, Domenica di nuovo ha scelto obbligate con Nigro e Balzano al posto di Altobello e Stendardo. A centrocampo hai intenzione di cambiare Lo Sicco e Bob? Intanto ribadiamo il concetto che noi siamo in emergenza come aspetto dei difensori e forse è stato messo in secondo piano questo aspetto e che fa comprendere quanto i ragazzi siano capaci di riorganizzarsi anche con delle assenze così importanti. Prima della gara di domenica un po' tutti eravamo preoccupati per queste assenze che continuano ad esserci molto importanti. Per cui il fatto che i ragazzi si aiutino e siano più o meno organizzati nella fase difensiva è una buona base. Quelli che ha citato Lo Sicco e Bob sono due giocatori che hanno giocato nelle ultime gare e che hanno mostrato di avere delle qualità ma che hanno anche mostrato pause. Ma queste pause e questa qualità vanno migliorate, vanno eliminate le pause, vanno migliorata la qualità anche attraverso l'esperienza. Come al solito io non ho ancora deciso qual è la formazione da far scendere in campo, domani abbiamo la rifinitura, però abbiamo provato diverse soluzioni in settimana. Per cercare proprio di sfruttare di più queste ripartenze, perché sappiamo che la sua squadra dal punto di vista proprio di non possesso palle è tra i migliori del campionato, una grande organizzazione di gioco, però poi da centrocampo in so, hai pensato anche a un attacco leggero, nel senso mi riferisco a Viola, Potenza, Bollino, più brevilini, più veloci, proprio per le ripartenze, almeno per essere più veloci, più incisivi anche. Non so pure che soluzioni, perché il Taranto si blocca dal centrocampo in so, questo almeno. Poi un'altra considerazione, ieri Ballesteri parlava, si lamentava un po' di pochi palloni giocabili, ecco, in avanti. Cosa vuoi dire a proposito? Non ho sentito, non ho ascoltato la... Questo non l'ho sentito, non l'ho ascoltato la sua intervista, non credo che abbia detto così, comunque ti rispondo per quanto riguarda il discorso delle ripartenze. Io alla fine del primo... Ho visto tutta la gara di domenica scorsa con il Catania e ti dico che nel primo tempo il Catania non ha giocato mai la palla dalle retrovie. Noi abbiamo cercato di giocare dalle retrovie, qualche volta abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto invece una buona fase di possesso palla, cercando di liberare sia Garzia che De Giorgi sugli esterni. solo che, che ne so, con l'Andria siamo riusciti ad andare tre, quattro volte sugli esterni con De Giorgi e abbiamo fatto anche gol con Bollino. Invece con il Catania qualche cross in meno è venuto perché ci sono dei momenti di flessione e di stanchezza, no? Per un giocatore, per esempio, come De Giorgi che aveva avuto una settimana particolare per un'estrazione del dente che non sto adesso a dire. ci sono delle situazioni quindi noi proprio nel primo tempo non abbiamo giocato di ripartenza, l'ho rivista tutta la gara, abbiamo fatto molto, molto possesso palla. Nel secondo tempo devo dire che siamo calati da questo punto di vista. Il fatto di Viola credo che sia improbabile proporlo dall'inizio anche perché questa settimana ha dovuto essere attento a questo tendine dell'aluce che si sta curando e quindi difficilmente potrà essere della formazione iniziale. Potenza è entrato benissimo in partita e non è da escludere un suo impiego dall'inizio così come non è da escludere altre opportunità. Abbiamo visto anche il buon impatto che ha avuto anche Paolucci domenica una volta entrato in campo. Abbiamo perso dai radar un po' San Pietro che fine ha fatto questo ragazzo? Si sta allenando si sta allenando con noi e ha recuperato dal suo infortunio. È un giocatore che fa parte della nostra della nostra squadra. Io cito sempre Fabio Prosperi la fine che deve fare un giocatore quando non gioca è mettere in difficoltà il proprio allenatore e può anche non giocare per tutto per un mese per due mesi per tre mesi il suo compito è quello di lavorare al massimo ecco e se vuoi sapere San Pietro si è impegnato tantissimo così come tutti gli altri questo è quello che dobbiamo fare fa parte del nostro organico e lui è anche tra quelli che può giocare perché quando io porto 21 20-21 giocatori esclusi 2-3 under gli altri possono ritenersi possibili titolari.